L'italiano bilotta La fattura d'amore Energia, pensiero e influenza a distanza Hermes Edizioni Questo libro è la cronaca di una influenza a distanza chiamata anche fattura d'amore a cui è stato applicato sotto forma di nota l'insegnamento dei maestri ossia di quelle entità elevate che si manifestano attraverso grandi medianità L'autore definisce le sue opere narrativa interattiva in quanto tra il lettore e il testo si realizza un interscambio psicoenergetico che insensibilmente, in maniera sottile ma concreta deposita una lieve traccia, un'idea seme nella coscienza di chi legge un messaggio subliminale che attraverso vicende di vita quotidiana trasmette per contagio delle forme pensiero portatrici di insegnamento Il testo è preceduto da utilissime brevi notizie sulla medianità ed è concluso da un prezioso supplemento di insegnamento che chiarisce il significato di molti termini ricorrenti nelle comunicazioni con i piani di esistenza superiore Le numerose note esplicative sono consultabili attraverso un accurato indice analitico